A Luigi Papandrea è finita da poco la partita agostiniana-atletico da Ormina, vinta dall'Agostiniana per 2-1 nel finale. Con noi il Miano che ha segnato il gol del 2-1. Ci puoi descrivere questo gol? Il gol nasce da una bella azione di Camelia, un cross in mezzo. Il pensiero è andato fuori tempo e di prima intenzione ho tirato a botta sicura. Siamo contenti di questa vittoria, è molto importante per noi. È avvenuta in 9 contro 11, quindi ci dà più coraggio e voglia di fare bene le prossime partite. Forse la Costiniana gioca meglio in 9 perché in 11 perdavate 1-0 e in 2 minuti siete riusciti a recuperare e a vincere la partita. Sì, penso che oggi 11 contro 11 la Costiniana meritava pure il vantaggio. Penso che il gol loro è nato da un fuorigioco di almeno 2-3 metri. Però come ho detto prima, in 9 abbiamo dimostrato che questa squadra, che se ha la voglia e la giusta determinazione, può fare delle cose importanti. Terza vittoria, 11 punti in classifica, riuscite a muovere la graduatoria dopo la sconfitta di 7 giorni fa. È una Costiniana altalenante. Sì, per ora risultati altalenanti come dici tu, però giustamente siamo un gruppo di 25 ragazzi tutti nuovi, quindi ancora ci vuole un po' di tempo per amalgamarci tutti insieme. Però è una vittoria che ci dà molto morale e di partita in partita penseremo alle prossime partite. Grazie. Grazie. Grazie.